Salve a tutti ragazzi, io sono Arashi e oggi siamo qui con un video dove vi spiegherò come riscattare la ricompensa di Apex Legends tramite il Twitch Prime. Allora ragazzi, prima di tutto per accelerare i tempi vi dico di iscrivervi al canale di Electronic Arts, al sito di Electronic Arts, dove appunto iscrivendovi voi dovete poi collegare il vostro account dove volete la ricompensa. Ad esempio se siete PS4 andate sul sito di Electronic Arts, vi iscrivete, collegate il vostro ID PS4 e lì poi avete la ricompensa una volta riscattata. Ora passiamo al punto focale della guida. Come avere il pacchetto? Vi basterà cercare su Google Twitch Prime ricompense e vi si aprirà questa pagina qua. Vi comparirà un link, il primo, voi ci cliccate che vi porterà su questa pagina qua, che vi darà appunto Apex proprio in rilievo. A questo punto cliccate su ulteriori informazioni ragazzi, vi si aprirà un'altra pagina ancora dove ci sarà tutto il necessario. Ora, qui avrete delle domande frequenti, quindi se avete dei dubbi, prima di chiedere nei commenti, provate a cercare tra queste domande che vi spiegano davvero tutto alla perfezione. Una volta fatto ragazzi, fate riscatta ora. Cosa vi chiederà il sito? Vi chiederà di accedere, quindi per chi ha già un account Twitch, vi basterà accedere e collegare il vostro Amazon Prime se lo avete. Ok? Se non avete Amazon Prime dovete fare la prova gratuita di un mese, quindi voi avete la prova gratuita per un mese. Dopodiché, se volete rinnovare, dovete pagare 36 euro l'anno, che a dire la verità ragazzi, io l'ho fatto, perché comunque vi dà tanti vantaggi con Amazon, soprattutto se comprate tanto online. Comunque, bando alle ciance, una volta che avete collegato, avete fatto il vostro Prime Amazon e avete collegato il vostro Twitch, effettuate l'accesso e fate semplicemente riscatta ora. Le ricompense vi verranno mandate, come vi ho detto all'inizio, sul sito, no sul sito, sull'account che avete legato sul sito di Electronic Arts. Quindi molto semplice, se avete collegato su quel sito il vostro ID PS4, una volta che avete fatto il riscatta ora e avete collegato Amazon Prime a Twitch, avrete in automatico, vi verranno spedite le vostre casse e le vostre ricompense su quel profilo legato ad Electronic Arts. Ora ragazzi, però, la guida finisce qua e vi ricordo che comunque qui sotto avete le domande più frequenti, quindi se avete dei dubbi, tramite queste domande qua, sicuramente risolverete ogni minima cosa. Quindi ragazzi, ora però voglio dirvi una piccola chicca. Se a voi fa piacere e ci seguite e vi fa piacere soprattutto supportarci in una forma monetaria, perché comunque adesso vi andrò a spiegare tutto, chi ha il Prime può effettuare l'abbonamento a un canale a sua scelta in forma completamente gratuita. Quindi se voi avete un mese, a posto di sprecarlo e non darlo a nessuno, se vi fa piacere ragazzi potete abbonarvi al nostro canale, che vedete qua, amante, trattino basso, yt, e semplicemente lasciando il follow al canale, in questo modo ragazzi mi raccomando lasciate il follow, così poi siete iscritti e vi arrivano comunque le notifiche di quando andiamo in live, noi siamo in live ogni giorno, giochiamo con i follower, eccetera. Però potete ulteriormente supportarci abbonandovi con il vostro Prime, voi non pagherete nulla e sarete degli abbonati. Cosa avranno gli abbonati in più rispetto a un follower normale? Avranno lo stemma vicino al nome di quando si iscrive in chat, avranno degli eventi dedicati a tema, avremo delle serate dedicate sui sub, delle live dedicate solo agli abbonati, tipo la live alcolica che faremo a settimane, ci sarà una live alcolica dove tipo io mi ubriacherò mentre gioco qualche gioco scelto dagli abbonati e ci faremo tante risade, soprattutto voi immagino. E quindi ragazzi avete tanti vantaggi, come ad esempio avete il gruppo Telegram privato, dove ci sono solo gli abbonati, o semplicemente una volta al mese faremo anche un'estrazione di una carta ricaricabile del valore di 20€, solo per gli abbonati ragazzi, quindi direi anche che è una bella, una cosa carina. In questo modo comunque voi ci supporterete in modo economico, perché comunque tutti i guadagni ricavati dagli abbonamenti noi li investiremo per migliorare la qualità di tutto del canale, comprare giochi e portarvi contenuti migliori. Quindi ragazzi mi raccomando, il Prime, il pacchetto di Apex potete riscattarlo tranquillamente con il Prime, non dovete per forza abbonarvi al canale, ma a quel punto se avete fatto il Prime, e vi fa piacere supportarci e avere anche quelle ricompense che comunque è del caso per gli abbonati, vi basterà fare abbonati. Andate nella sezione qua dove c'è il Prime e vi farà abbonare gratuitamente. Ovviamente a fine del mese gratis dovete decidere voi se riabbonarvi ad Amazon Prime per un anno, e quindi avere ancora l'abbonamento gratis da dare al canale, oppure potete lasciare Amazon e abbonarvi solo al canale pagando la somma di 4,99 al mese. Quella è una vostra decisione ragazzi. Quindi, detto ciò, se ricordatevi soprattutto di lasciare il follow, va anche così siete sempre aggiornati sui nostri movimenti, vi arriveranno le notifiche sul cellulare. E nulla ragazzi, spero che il video sia stato esaustivo, vi ricordo ulteriormente che qui sotto in questa pagina avete tutte le domande, quindi se seguite passo passo queste domandine qua non avrete problemi di scattare il pacco. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, l'abbiamo rifatto perché ci sono stati dei problemi nello scorso, ci sono stati dei fraintendimenti, quindi abbiamo voluto sistemare le cose, dato che molte persone, anzi molte ragazzi, parliamoci chiaro, semplicemente alcuni ragazzi hanno pensato che la nostra fosse stata una cosa per truffare gente, ma semplicemente è stato un errore nell'esprimersi, quindi abbiamo preferito cancellare il vecchio video e rifarlo nuovamente in modo più accurato e spero che vi abbia fatto piacere. Detto ciò ragazzi, grazie mille di essere stati qua, lasciate un like, condividete se ne aveste voglia e ci si becca a un prossimo video. Ciao!